ciao ragazzi ciao ciao a tutti bentornati oggi ci giochiamo venezia parma che ci sarà lunedì 26 la giochiamo oggi che cos'è venerdì? oggi è venerdì è venerdì ce la giochiamo in posto da farvi questo succosissimo venezia parma vi facciamo gli auguri di buon natale di felice anno nuovo e questo regalo vi facciamo bellissimo questo parma a venezia che vi lascerà bocca aperata speriamo e allora partiamo via via è bella la maglia a venezia non so quanti minuti ci guardiamo ci guardiamo e facciamo insomma quello che senti subito da dove scova il tempo vediamo comunque noi vogliamo questa vittoria era così senza vera sì ma dopo dopo che ho perso con il gol di Osorio cioè è ovvio che dovevo essere gasato partiti adesso facciamo girare il pallone facciamo finita di essere in casa anche se non lo siamo eh sì poi si gioca in laguna comunque dopo aver provato quel cesso del 2023 mi trovo molto meglio può solo che migliorare eh sì può solo che migliorare può solo che migliorare adesso mi assento mi assento vi saluto no scherzo adesso sono un po' il volume ecco che sono tornato 25 mi so gasamento ecco il venezia è il tempo è mezz'ora bene allora partita ma si dà che il palma è mezz'oretta mezz'oretta e 30 minuti quindi attenzione ragazzi no falli eh può succedere di tutto di tutto anche perché è giusto così che il palma non ce lo giochiamo quasi mai ma guarda non è niente il sottierrato guarda la guarda queste cose del 2023 non li vedete mamma mia ma che roba questo qua è più realistico si può sotterrare con Valenti va a vedere che c'ha il fisico guardate come si può coprire il pallone siamo innamorato di questo gioco almeno c'è un po' di realismo si può ragionare aia che parma e chi chiude bene aia non devo dirlo però sennò porta sfiga eh che bello che intervento l'ultimo minuto ma non l'ultimo secondo altro che minuto giochicchi e maghetti guardate cosa cosa vi regala per il natale guardate che giochini gli eretisce l'avversario e ora riparte cavalca dritti secco di l'oretto è steso e guardate qui c'è munizione che me la voglio no finché è il regalo di natale ragazzi ha visto che non era niente no 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 ha visto che è 30 minuti qua c'era il regalo di natale zica duttato via va bene spara a casa l'orecchio andiamo a cercare uno spizzo andiamo lo trova sì no niente sì ragazzi però io ve lo dico devo fare Vasquez questo lo devo fare prima o poi vi farò creerò il giocatore di Vasquez perché non si può fare niente e buffo stavolta fa variare i suoi anni di esperienza qui grande finte perché ormai mi aspettavo il solito passaggio filtrante invece dream in sinistra la boccalone e buffo si è salta quanto d'oro per boffa e prese c'è montato il venestiano con boccalone boccalone è buffo un bravo esci bravi bravi un cazzo sei minuti c'è sotto ma cos'è di chi è la colpa io vorrei capire di chi era chi è quei vintiguli adesso lo vedrai vai a far un bagno guarda chi è quell'immobile lì ma chi è adesso voglio da chi ha i denti due però mamma che incredibile la ringrazia che non ti posso tirare giù adesso ti guardo adesso lo guardi eh 22 diamogli subito qualcuno il difensore il quattro no questo è Ballard KOBO cioè KOBO immobile e ne combina un'altra KOBO 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 che roba non riusci neanche a tenerlo pizza ragazzi ci dovremmo dobbiamo risollevare però cioè dobbiamo ripartire qua eh sei minuti già sotto il culo di Simon Sam Simon Sam Simon Sam Simon Sam ma cos'è quel inizio ma che roba chiuderemo e chiuderemo in collaborazione bravo che troppo male è vacca si è maradona chi è maradona tranquillo si è anche un po' meno eh però è Buffon rischietti l'oretti non faccio un passaggio cos'è oggi c'è la rogna dai là ma cos'è sta roba ecco che ho giocato al PS 2023 mi fa venire il vomito e allora mi ha condizionato dai dai mettiamoli in difficoltà che la barcata la possono fare anche loro eh non è che loro non le fanno mai eh e chiuderemo no e là chiuderemo e vacca la boccaloni c'è cobbò le convini mezza buona cobbò una volta si riscatta e vacca l'altra persa incredibile cerca che ti fa fatto che roba che gramo e vacca cos'è quella roba qua e allora cazzo che è ricca svegliatevi ti chiamo molti storsi insulti l'uno dietro l'altro vi svegliate a nulla vai davanti c'è solo Venezia c'è solo Venezia c'è solo Venezia per adesso purtroppo sarà che abbiamo vincato gol ci siamo che ne prezzi ma cos'è Vazquez cos'è? Vazquez fuori gioco è un bellissimo tocco ma non so che era bene troppo bello ci sei messi esagerate c'è ragazzi quella è ora di svegliarsi da un pezzo io spero che cambierete proprio il ritmo cioè che cambierà tutto perché per adesso è un processo mi ha fatto male giocare al 2023 comunque mi ha fatto molto male perso il ritmo iniziava a fare dei lobby merda delle robe inutili che magari ci favorisce a fare ancora le robe inutili eeeh ma stavo per gussarla comunque stavo per gussarla dai dobbiamo arrivare premi sul pallone come facciamo una volta però qua cosa sta roba? che fisico c'hai? c'è un fisico tonto? non c'è niente 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 grazie grazie sono quasi morto di paura va qua grande anticipo boda boda è bella bufano se la trova lì la rispizze è bellissima non so come l'ha rispito bu è un guizzo verificante del vecchio ancora non si dice del vecchio del vecchio giocare nella robe oh ditemi oh oh ma cos'è? fanno troce qua poi fanno troce io ve lo dico fate schifo veramente cos'è sta roba? ma loro fioni figa non c'erano più voce non va bene secondo me c'erano più voce figa è terribile sta roba non sape più giocare dai Vasquez si bravo facciamo la cadacca niente si dai cosa dici mi è piaciuto? beh devono ricominciare ad anticipare il centrocampo come facevamo una volta eh non fare schifo no bravo beh fai di perdere un po' ogni tanto palla anche lui ripartiamo dai bravi così va bene si così cominciamo a ragionare bravi lob così ci siamo così mi piace eh arbitro esisti vacca non mangio e ammasso no non ammasso no allora chiudi niente non è schifo ok reke ma è schifo in testa ok reke schifo vabbè poter schifo che la mette 2-0 ma cos'è sta roba ok reke ok reke sfugge gli occhiali gli elimino gli occhiali così non gioca più finché roba ma come si fa ma chi è il corale eeeh cobo no eh che si secondo me sì eeeh cobo scende non me ne farei un cacchio di 30 minuti cobo è immobile no ma è terribile ma cos'è il cobo che roba è io non credevo veramente mai di dover fare trarosorio io ve lo dico è contro ogni logica dov'è non c'è ci vedo che l'hai messo in tribù eh sì l'ho messo in tribù beh giusto così Vabbè, lui mi dovrebbe far giocare a Jacoponi, che si spede anche, però vabbè. No, ma è incredibile, ma stiamo facendo schifo, ma mica poco, eh. Schifo. Ma è buona formazione alla fine, tu. È incredibile, vabbè. Niente, il Venezia ci farà il culo, già capito? Il Venezia ci farà il culo, vedi? Un altro weekend di paura. Fica incredibile. Ragazzi, c'è il tempo? Cicco, perché era 3-0. No, dai ragazzi, dai, seriamente. Avete beccato due gol di testa, ne beccate uno ogni dieci partite, forse. Di gol di testa. Questa partita è due di fila. No, veramente. Cominciate a ragionare un po'. Dai, spingili un po'. Cominciamo a fare qualche numero che ci sgasi, no, eh. Bello. Così si ragiona. Bravo. Ragione, dai. Oh. Non è male. Non è male, dai, pressa lì, però. Pressa. Niente. Niente, schifo. Guarda, riportano il contropiede. E guarda, che roba è, eh. Tornate qua, che aveva un problema. Bene. Bene. Ragionate un po'. Bravo. Sì! Ma non è possibile! Botta dentro! Bravo! 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 Bravissimo! Non è possibile! Una volta che conquistiamo un bel pallone filtrati incredibile, cerchi di drivare al portiere. Questo è un errore. Lo ammassano. E questo qua me la devi anche forse davanti e dentro. Sì, che tennis man. Comunque dovevo fare il pallonetto, non ho avuto la freddessa. Sì, è buono. Dai, arrivaci prima. Cosa fai? Sì, bravo. Cerchi il rigore, dai! Cerchi il rigore, dai! È buona! La recupera, Loretty. Sì, è buona. Eh, eh, mi fai il fallo. Cos'è? Che di cosa possono girare? Che di cosa possono girare? Che di cosa possono girare? Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Ci provo? Ma sì, dai! È possibile! Ci provo, allora è T! E ora, vai, vai, vai! Niente! Ma da lì era troppo difficile, ho esagerato per fare un passaggio. Vabbè, dai, torniamo a comandare noi il gioco, dai! Ce la possiamo fare? Bravo! Ottimo culo! Cos'è sto schifo? RETE! Ma sì, tre gol di testa! Ma uno è nostro! Vieni là! E poi San Valentino! È il 14 di febbraio! Guarda, ma che lavoro! Guarda, zi, ma che lavoro! Valentino, sono tu! Prima me lo sbagli! Ma che roba? Guarda, cosa fa? Guarda, ti in mezzo! È San Valentino! E ci riapre la partita! E ho detto che era girato qualcosa! Tre gol di testa! Mai successo, credo, nell'ultimo anno, anno e mezzo! Tre gol di testa! Di fila! Incredibile! Partita riaperta! Il 23esimo, Nici! Nici all'ascolto si riparta! Con un parma rincuorato! Rincuorato! Non è che rincuorato! Tutto il partito è inesistente! E la pressione è inesistente! Eh, oh! Non so! Ci rigalvanisiamo! Bellissimo! Ma no! È bellissimo! Guardate che un uomo ho fatto! Ma guardate qua il controllo! Guardate il controllo se qui era! Ma commessi! ma la lisciata basta beh comunque è incredibile è incredibile che ho sberto il gol ragazzi un palma che ora è il momento d'oro bisogna ottenere qualcosa da questo momento d'oro così quando recuperiamo il centro campo va molto bene vuol dire che qualcosa è girato dai 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 pressare noi dobbiamo ottenere il passaggio del pallone assolutamente e collaborazione chiudere così in collaborazione bravi siete ritornati quelli che voglio sì mi riconosco pallo ma se fai schifo abitro ma sì ci siamo dai ci siamo ci siamo migliorati vi siete mutoliti voi eh veneziani vi siete mutoliti ci siamo mutoliti ci siamo mutoliti non hanno più parole ma recupero recupero quello pallone qua lo recupero e ora si fa lo spazio e ora lo spazio se riesco a spazzarlo è terribile mi riconosco ma è che aveva tenuto lo spinta lo spinta lo spinta lo trattiene lo ripi dai che siamo calvanizzati dai facciamola girare adesso il centro campo bravissimo la teneva lì la teneva lì ah che bello mi fa che mi fallo ah boh cos'è si io la do e tu mi 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 mette di parma guarda vabbè con le mani controlla l'ha contratto con le mani ha fatto così si vabbè bellissima dai via qua non c'è nessuno dai muoviti che dopo c'è qualcuno bravo si ma che schifo sei lento bravo però vi siete calvanizzati veramente è cambiato qua tutto tira lì sbacca la porta niente non lo sento anche per caro bravi ma questo è quello che voglio rivedere è quello che voglio rivedere è il pressione al centrocampo che ritorna guarda guarda è il pressione anche il portiere ma che roba e vabbè non mangia è da solo è da solo non può fare nulla è da solo da solo non può fare nulla così va bene così chi parte bravo e vabbè bravo però ok alright ok distraggo l'avversario con la musica dance dai la ma cosa convinci con la falsa chi sei con bo2 la vendetta e la torni oh da lì dalla dietro tranquillo al pensione rock al pensione e la ti svegli cos'è sta roba non mi piace questa palla particolata niente è un palma che ora comunque è migliorato molto migliorato ah che numeri ragazzi lo sa Valentino ve l'ho detto ma che si spiega di niente se l'ha visto netto ma di niente se l'ha visto netto una mano una mano in fuorigioco già la palla in mezzo bomba da un metro niente ragazzi comunque è il trentesimo siamo vivissimi vivissimi e Valentino è vivissimo eh sì dai dai va bene ma quanti coglioni mamma mia ma quanti coglioni c'avete ma che roba che mi spinge ma che che lavoro io forse è nato siamo vivi siamo vivi e un po' che glissi ha bello ma questo non è bello non è bello non è terribile bello che roba è mia che spinge tranquillo ma non è che i coglioni certo si si è derriato ma senti andro ma che roba mi chiede buttata ma cos'è sta roba il buffano ti stavo per ammazzare va bene ok vai là ma no mi siete persi ma torna subito torna subito bravissimo si si poi si è ritornato a quello che volevo io eh si però non puoi fare la sconsa tanto no non puoi sei bravo sei bravo sei bravo sei bravo ottimo no non puoi arrivarsi non puoi bravissimo 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 bravissimi siete belli eh ma che è un buon gioco di un niente non c'è siamo avanti incredibili siamo avanti apri il fallo bellissimo bravissimi dai che va bene sì che siete belli ma che sono belli ma questo succede no incredibile incredibile veramente sfondalo bravo sfondalo dai che siete potete sfondalo dai dai raccoponi ti ho fatto fuori squadra dai però sei ancora bravo raccoponi non esiste neanche qua numero qua numero eh sì quel gran numero vale il biglietto danny's man lob no e poi cerca di fare troppo devi aumentare in mezzo ragazzi dobbiamo che smettere di urlare non c'è più fiato dovrò superare un po' di fiato per riuscire a fare le azioni e qui un bel numero se ne va è stupendo e lo stende su dove è più in aria è incredibile bellissima botta devi attere ai temi magari non c'è comunque lo faccio ti arrivi dov'è giallo qua dov'è giallo non lo muoverà guarda la conosci diretta dove vai è fatti ma che bella sgruppata ragazzi con il cuore eeeh vinceremo alle alle forza parma non ci fate tu ma che cazzo dai ecco è un parco incredibile ma che sia bella fallo non è niente incredibile è incredibile come siamo belli ora e parca come poi siamo ma dove sei ma che siamo belli ma finché siamo ovunque siamo ovunque ma qui ci siamo belli come un quasi forse nato veramente tutto di prima a cercare i compagni chi siamo ovunque siamo ovunque e buca che roba non si passa come una volta c'è troppo come si passa più un bel parma che ora sale con gli acotoni dribbli secco la dà bravissimo gli acotoni sincerissimo e buca quasi pizza di bocca presci cioè non presi no torna non fare cazzate bravo bravo di prima bravissimo fate vedere è strozzo bravo la nostra puttana è bella tornate in tre secondi è troppo veloce è stata ok non potete distrarvi così uno contro uno mi sembra l'orecchiette che ha segnato ok ma porca puttana c'è un contropiede ragazzi è un contropiede uno contro uno due contro due dai non si può ma che roba cioè sono un uomo sono in due e si fanno i reti e dalla testa al patto entrambi porca vacca ragazzi è stato un portollo hai l'ha pensata bene l'ha pensata qua eh mi ha fatto fuori porca puttana il diretto versato ragazzi questa è una brutta batosta questa è una brutta batosta è brutta batosta qua adesso secondo me sono a muto leader e questa è brutta sono a muto leader ragazzi siamo a muto leader perché 2-1 ok figlio che roba però ti riporto nei fatti di più possesso nostro ma ti rivedere caputana ragazzi l'avevo riaperta secondo tempo adesso urlo meno finché non mi fate gioire non urlo più parola stessa un po' di come dire di incitamento perché ne avete bisogno però finché non mi ridate un po' di fiato mi dovete far gasare ragazzi dovete ricominciare a farmi gasare non a beccare dei gol e là e là bravo va bene e va che fallo arbitro esisti e va che fallo dopo unizione magari ma va ripremo la partita che non va dopo un'inizio chi è la momento lo sai eh cazzaro allora speriamo che calda ora stanarmi adesso dovete sperare è più rosso non ma va che si è bella dai eh si dai che cosa ma non vuoi ne va che farò bene dai chiudere subito bravissimo dai che sei bravo dai dai che c'hai le palle che schifo hai fatto che schifo è quello lì va bene no infilata che buco è ma che roba siete stati bellissimi ma che farà che farà lunetto non c'è di porta ma va va abbiamo un po' di fisico noi una sbuttonata la quale abbiamo chiuso bel triangolo ora ce ne andiamo dai però bravissimi dai vabbè il 4-1 non l'abbiamo preso abbiamo fatto una bella chiusura difensiva e ora andiamo in avanti dai che viva la botta deviata non poteva andare dentro qua ma in una volta che me ne va giusta una ci stava un bel autogol no così vai via ottimo mi piace è bellissimo se ne va Valentino adesso tu dai bravo dai eh vabbè l'avete scherciato merda così è un masso è là Corri è là chi sei guardate vuole fare anche i gol in suorbiciata figa mi ha detto la laguna cos'è che era Occhereche che vuole fare la cosa in suorbiciata ma che figo perché sei troppo esaltato sei mica un papel mondiale hai esaltato Occhereche figa c'è saltato non c'erebbe altro mi fa quelle robesciate adesso ottimo eh maradona eh maradona maradona ma porca era bellissimo qua maradona dai vai in cielo insomma non vuol dire che devi morire devi fare qualcosa vai in cielo non vuol dire muori ma che se te schifo abate vissali ultimo bravo bravi bravi stupendi ragionate bravi bravi ma che sfiga è bravo te fingili e la metti lì e la metti lì lascio che bacia che bacia che bacia l'angolo guardate ve ne dice cosa devo fare magari la proteggo un attimo mi giro un attimo e infilo là ufff 3 a 2 peste potevo essere in parità si scalda il tifo del parma speriamo di non raffreddarsi più ragazzi adesso ragazzi ritorniamo in partito non distraitevi subito però perché è un attimo di spazio bello e vada però abito non esisti abito eh no eh no bravi eh no ragioni un attimo abbiamo fatto bene fino adesso mi fai fare sto stottato qua tanto schifo proprio tutto non vuoi cambiare bravi ma che culo vabbè non serve ne altro dai ma che toccata ma che toccata ma cosa dici vabbò arrivi o no non vuoi passare a lui brava dai vengelo brava ormai sciabolata morbida perfetta eh ma cosa fai è incredibile cioè ha fatto la cosa più difficile e poi si impappina come un bambino incredibile questa è nostra dai che era nostra svegliati no potta per la prima moda fallo molto bene però la potata guarda un bel dribbling ottimo ma figlio fallo abito è schifo qua dai ok reke figlio che roba che roba ragazzi il contropiede è qua state attenti ma chiudi ma chiudi chiudi oh boom ma che lavoro ragazzi mi ha bloccato dei contropiedi assurdi d'ezi lex gol dell'ex d'ezi vaffanbagno vada zì sì che lavoro dei contropiedi becco è incredibile ammunturiti ancora ma è per avere una bella porca puttana ma tiralo giù no io può dare ogni tanto guarda che roba nessuno che tiva sotto la forragine segnano solo il contropiede stai figlio ancora si ricomincia niente non riusciamo mica arrivare in partita non è che è giocato male però figlio ragazzi mettiamo dei contropiedi età amici e sei bravo e gli la mette ancora l'ho putta ma Dennis man alleluia is Dennis man yeah yeah is superman alleluia dopo l'altro per lo farlo tirare esatto così impari a portarmi ma che roba il giro mi trancia ma che figa ma che roba verso le gambe le difensore per fare una parola una che parola e comunque ragazzi non so se vi rendete conto che vi stiamo dando 7 gol in 60 minuti infatti c'è partite spettacolari usurrei dire e vi assicuro che non c'è niente preparato giochiamo e succede così una roba incredibile dai che va bene dai che siete galvanizzati ritorniamo a essere galvanizzati lo so che possiamo farlo dai la ti smegli però giochiamo sulla linea giochiamo sulla linea dai sul filo del rasoio che pazzi che siamo però vabbè ti ammasso io ti ammasso bravi alla fine alla fine bravi bella bellissima anzi però che roba è dai no sta benissimo dai ci crede ci crede questo parma che si ci crede dai dai o no boom boom 1-2 elenco bonatti dai cosa bene ma guarda questa roba bella no no incredibile una torsione bellissima e non viene premiata la casiraghi che roba io ho giusto il gol tanto che si era battistuta di spiegare di Diccia ah ho le battistuta beh certo magari anche battistuta già da pensionato vieno un bene è proprio quelli del parma va bene è pressi è pressi questo qua forse è nato infatti che sfiga è però anche è pressi forse è nato va bene è pressi forse è nato è bella e fallo in area lì ti svegli un po' fai il terreno ti rendi conto che fai il fa no pote l'oliva pote l'oliva pote l'oliva un po' ma cosa vuol dire potare lo poti o no dai che la puoi perdere si la scoppiamo questa palla dai che bella controllo bellissimo dieci una disimane ancora addosso 40 persone Vasquez si trasforma in un Vasquez lo so non ce l'ho Vasquez ma lo devo creare perché è giusto crearlo e se ce l'ho è giusto crearlo la vacca il limite dell'aria è montato ragazzi ragioniamo dai ragioniamo cos'è sto schifo cos'è oh che vecchie no ma figa che cazzo di contrapiedi buf 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 ma senti le schifezze giacca di sotto e mazzo l'ammazzo tripleto dell'occhio ma non è possibile oh noi attacchiamo e loro figa dei chirurghi 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 un passaggio filtrante da metà campo come volta non è possibile vedeal ma è guardabile guardate come droga oh che roba che ne si sono guardate che roba nessuno che niente saluti ma va bene buf buf però che spettacolo va bene figa qua niente faccio scendere buf 61 si si è uscito troppo lentamente veramente una roba inguardabile punito buf buf incredibile incredibile boh vai via perchè oggi ne ho preso troppe per 5 gol preso figa tutte le volte che siamo lì per pareggiare andiamo a rimeccare ancora il vantaggio di due reti è terribile questa cosa è terribile ti dico solo che è terribile siete dei matti, siete dei matti solo voi potete fare dei lavori del genere, da matti quella roba è da matti eh falli in aria però ma ci vedi? dai che lo podi? quel foca guarda come si inserisce, sembra potentissimo bravo che sfiga è però forca vacca, ero già in aria guarda l'ho ammazzato sul tuo contropiede a tomico chiudi 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 ragazzi bravo figa per una bella non ti posso dire niente hai fatto troppo tutto quello che potevi dai che ha il contropiede atomico è atomico questo contropiede qua cos'è quella roba lì? c'è neanche la porta presa è una vergogna veramente è nostra però eh è nostra come f*** mi ha detto è nostra la porta buttata dai schifo vai anche il contropiede parte la perdi o no? no non la vuole perda non la vuole perda guardi fai il maggiore niente non si riesce più a vedere a vedere la palla adesso mi hai premuto lipi se li ho meno male mi conquisto va bene bella ma dai ma non ci riesci dargli la precisa una volta che va che ti miscio eh è terribile bella diagonale dai un po' di esaltazione dai putzana miseria no niente tutto il pezzo niente dai porca vacca niente oh oh mio puntuale eh bravo no vacca vacca come gliene le sconde vacca piglio di mismento aveva avuto una cosa bella e ho rovinato tutto ehi sai di bravo dai che sei bravo dai che spingi niente ancora niente non 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 serve più che i galvanizzati niente dai chiudilo adesso però vacca lo schifo fai chiudi eh vacca il pugno in faccia abito chiedi ma mi tuteli non mi tutela mica hai fatto un pugno in faccia diretto ahahahah chiedi un gancio al mento mica dai che ti servisci bene ma sei bravissimo per andare a pesare di te eh guarda che bravo e la spatenete bellissima azione parma me ne vado a fare un giretto di pesante me oh 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 o oh oh mi pare sia rivedibile siamo incredibili non vogliamo mai comunque la perderemo ma non vogliamo mai guarda che azione che tirano fuori la gamba bella è otto tutto fatto questo qua freddessa il messo due lennisman ci rida la speranza cerchiamo di non mettere un contropiede subito come al solito magari e fare il 5c che sarebbe pavoloso dai pressing ora eh forse è nato lo voglio ho detto forse è nato a massa così va bene ci vai dai va bene va bene dai dai esci esci va bene va bene chiudi chiudi lì il conto pieno no 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 mi tocca la pancia lo spinaggio questo qua è pulitissimo che per me fa tutto no figlio poi a rigore ragazzi a rigore chiuderei a rigore qua chiuderei non sbaglia eh beh colombi tranquilli la cittura della porta dai via su subito che c'è il tempo dai che schifo è a quello subito il tatalismo boh un mostro bravissimo attacco bellissimo si riparte è stupendo si un bad pressing mi piace ottimo se ne vai è bellissima che c'è la palma la vedo è gol no 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 palla tutto che dio ti benedizia ho tirato calcio alla tua giacca no non può ma no io sono sudato però ma cosa ha sbagliato no ragazzi ross e perno avete visto da tutti avete visto davanti la porta da solo e me l'ha buttata fuori eh questo è quello che c'ho io in campo ma che sfiga è ma che sfiga è numeri però ma incredibile che numeri che faccio e poi non concretizzo guarda qua da solo fa finta di tirare niente la dà guarda ma come lui ride e poi dopo incredibile calma ragazzi ciao no ma io non ho più fiato io non ho più fiato io sto morendo eh è incredibile come stiamo meritando meritiamo come dei pazzi è bella non ho più fiato io non ho più fiato io non ho più qui lo sai ma sei messi lo sai io e calcio e mancchio bene se rifà no fighi scrivo è dai suo foteli a massa una volta fuori di gioco mamma mia ho sudato tutte le lingue stavo sudando su quel filtrante lì stavo sudando veramente sono morto non ho più la voce e là mio figlio pressing vabbè questo è pazzo oh cosa fai te esci sei pazzo e questo qua non gli hai chiesto nessuno bene bello pizzo dai che avete un bel controllo è bella vai però fai finita e questo è fanno questo è fanno all'ottantatresimo parma che cerca di non prendere il gol definitivo e cerca invece di segnarlo un cuore atomico giallo e blu dov'è? cos'è? 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 il gol è incredibile incredibile mamma mia incredibile veramente c'è lì in mezzo da solo dovrà sbagliare ma cosa è questa roba qua? va bene poi a leggerire ah è perder tempo all'ottantatatresimo sta cominciando milinari certo c'è paura adesso ragazzi c'è paura è il momento della paura del terrore negli occhi dei veneziani c'è il terrore qua lo vedo il terrore lo vedo io c'è il terrore del contropiede ottimo è bello mamma mia cosa rischia guardate guardate non so cosa fare la spessano le fine e la palla nostra no però non dovrei gestirla così questi ultimi palloni non vanno a essere grande grandissima più giù a vermi cosa è quella roba lì? no ma cos'è? è veramente incredibile ma è un furto ma cosa è quel lavoro lì? non è possibile che abbia segnato non è possibile che abbia segnato non è possibile non è possibile che abbia segnato non è incredibile guarda che ha fatto un gol assurdo ricordiamolo si ma lì cosa c'è lì? ma incredibile c'era fallo però qua è incredibile che abbia segnato ma incredibile ma che puntatina allora tu sai colombi vero? che ormai non ti posso togliere perché sennò ti toglierei non scendirai più in campo mi spese per te ma che roba da un millimetro ha beccato gol da lingua sul suo palo fai schifo uovo di colombi e niente oh colombi ha deciso che dovevamo perdere potevamo pareggiare c'eravamo ancora la forza niente ha deciso così colombi incredibile un po' ma ora depresso ormai perderà la testa se te lo metti è vero giusto così perde la testa Bernadette è giusto ormai perde la testa scusa ha fatto una partita meravigliosa quel ragazzo lì vai a baciargli i piedi non si trattivo dopo però gli girano le scatole la pota non si trattivo 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 incredibile veramente incredibile uno due guardi lì si mi ripartono ancora col cuore giallo blu incredibile che sfigare però ma mamma mia bravi mancherebbe tira ragazzi che sfigare però ma quelle sei vretti volevamo giocarci da fino alla fine ma purtroppo è impossibile ormai che lavoro eh però abito non tutteli nessuno però non tutteli il calcio devi tutelarlo il calcio dai schifo ma chi guardi devi tutelarlo il calcio schifo ma chi ma siete bellissimi con un orgoglio incredibile cos'è sto schifo no lo schifo veramente niente purtroppo è finito sicché roba roba nooo lo fa il gatto troppo ma che buone buonissima la tocca ma la cappella quasi ma che roba ma che roba ma che roba ce la figa tu vuoi fare il secchio finisce in rissa vabbè oh inizio partita ero bello perfumato ora sono da dosha come dico siamo in inverno che incredibile che incredibile eh ci mancherebbe anche quella però due minuti direi tutto sarebbe fare sei cinque ma ormai il lumicino bambastin 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 e va come fai che schifo che fai bambastin 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 e lo fai fai sei a cinque come ho venti quei ragazzi qua come ho venti crudeni benedizia il pallone in mano lo mette lì al novantatresimo incredibile veramente incredibile partita infinita incredibile comunque bello spettacolare oserei dire melina delle venezie terribile terribile melina a un minuto della fine questo ci inorgoglisce incredibile è incredibile ragazzi incredibile come avete fatto è comunque stupendo comunque vada ti commuoventi no ma dacci una chance dacci una chance no non ce la danno quei battagli eh ragazzi è finita così si vede che il palma deve per forza per andare a venezia sei gretti subito dal palma cinque subito dal palma cinque subito dal palma unici gol unici gol ma cosa volete di più lo so in trenta minuti nevicano gol in questo natale vabbè guardiamo le statistiche poi vi salutiamo ma comunque partita incredibile possesso nonostante tutto lo vinco io e lo voglio lo esigo come il palma possesso inutile 17 tiri di cui 9 importa 16 di venezia di cui 12 importa alla fine più concreto il venezia un calcio di angolo niente praticamente vabbè ragazzi bellissima partita giusto così non giusto così no ma è giusto la fine la venezia si impone per 6 reti e si sempre in vantaggio voi alla fine da 2 a 0 tutte le volte che facevamo ci avvicinavamo andateli in vantaggio voi quindi alla fine siete riusciti a tenerla se c'è un altro 5 minuti potrei fare 7 a 5 come 6 a 6 ma niente bellissimo ciao ragazzi speriamo che vi sia piaciuto un saluto ci vediamo ciao ciao vai